Sono chi lo vuole partendo bene Oddio, ma poi ti dici più chi lo filmato da oggi? Quale? Chi non l'ha già scattato? Aspetta, ma tu stai parlando di un film con quello attore famoso? Ma quale attore famoso? Famoso, ma? Conosciuto Chi non l'ha fatto l'ultimo film con Tommy? No, aspetta, ma tu stai parlando di quello che l'ha fatto da spio? Eh, se vorrei che io mi ricordavo, ma... Chi è che gli sta parlando di un biondino? Ma qua biondino! Un zulluso! Brava! Ah, allora chi l'ha fatto? Chi l'ha fatto il film con questo all'uno? No, allora non li capirete! Stai parlando di quello che abbiamo visto insieme? Un film con questo all'uno? Eh, sì! Ma ho fatto quello che fanno la rapina, che poi uno viene acceso... Stai parlando proprio di un film? Scusate, ma quanti film hanno fatto insieme? Ma c'è così uno, me ne ricordo! C'è stato quello che l'ha fatto da questa bella attrice? L'Australiana! Ah, sicuro che l'Australiana? A me mi pare canadese! Aspetta, ma che state parlando di voi? E' quello biondino! E' quello biondino? E' quello biondino? E' quello biondino, che capisci tutto! Ma tu capisci che sembra una cosa buona tu! Ah, si capisci che sembra una cosa buona? Tu non lo sai spiegare! Scusate, ma che ci vuoi capire? Stai parlando di quell'attrice famosa che sta sposando insieme all'attore famosa e lui, tu la mi ricordo nonna! Chi fa sempre i film per azioni? O Rino? No, o Bianca! Adriano, ma alla fine, ma che c'è un libro di questo film? No, tu le ho dice che è un'astruzione enorme, quindi è inutile che lui fornire io! Infatti, tu hai trovato il primo momento? C'è rimanato con chi l'attore? Ma quale? Chi l'ha trovato con l'attore famoso che ha fatto un film sugli alieni? Ah, chi le aveva fatto l'invasione? No, ho fatto quello lo scontro lì in tuo spazio! Ah, chi è l'astronave madre che si risucchia e caccia là? No, vado, 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 c'è il luco che si può parlare! Non ci stai andando a fare! No, vado, vado, vado! No, vado, vado, vado!